Nella giornata di ieri nella città di Capaccio Pestumo sono risultati 15 tamponi molecolari positivi al covid con 5 nuovi concittadini che negativi al tampone di controllo risultano ufficialmente guariti. Si aggiorna così a 62 il totale degli attuali positivi nella comunità capaccese con 122 persone complessive in isolamento domiciliare e 41 persone guarite totali. Ricordiamo fa sapere l'amministrazione comunale di rispettare sempre le norme anti covid con particolare attenzione all'obbligo di mascherina, distanziamento sociale e sanificazione delle mani.